Buongiorno a tutti, questa relazione è l'incipit del corso e vedremo che non è sempre semplice parlare di psoriasi pediatrica. Iniziamo questa giornata parlando appunto dei quadri clinici complessi nell'ambito della psoriasi pediatrica. La psoriasi è una patologia che tutti noi conosciamo molto bene, come diceva Valerio Pocanzi, è qualcosa che abbiamo imparato a gestire ma soprattutto il riferimento all'adulto. È una patologia antica se vogliamo, ne parlavano e hanno iniziato a descriverla già gli antichi greci e romani e iniziarono addirittura a fornirne delle indicazioni terapeutiche, ma dobbiamo aspettare l'ottocento per averne una descrizione finalmente accurata e soprattutto per distinguerla da un'altra patologia infettiva, la lebra con la quale spesso veniva confusa. Per quanto riguarda invece la patogenesi bisogna aspettare gli anni sessanta in cui si inizia a ipotizzarne una genesi immunomediata e quindi si inizia a pensare al ruolo fondamentale del sistema immunitario proprio nella manifestazione clinica della patologia. La psoriasi come dicevo è una patologia che tutti conosciamo, si tratta di una malattia cronica infiammatoria immunomediata che però nel 30% dei casi insorge per la prima volta durante l'infanzia. Molto spesso è misconosciuta e quindi i pazienti per averne una diagnosi accurata e precisa devono aspettare almeno l'adolescenza. Ne esistono forme e tipi alquanto diversi e in alcuni casi non sempre la gestione clinica e terapeutica è di facile approccio. Per quanto riguarda la prevalenza in Italia, questo è l'ultimo studio epidemiologico che abbiamo, è abbastanza datato e risale al 2007 e in questo studio si fece un'analisi regionale della prevalenza con delle differenze anche importanti tra una regione e l'altra. Abbiamo però una media di prevalenza del 3% che ben ricalca gli studi anche precedenti. Il più grande effettuato in Italia risale al 2004 del gruppo del professor Naldi ed è una prevalenza che comunque attualmente, almeno secondo me, è un po' sottostimata. Sappiamo benissimo che nel caso della psoriasi devono esserci dei fattori scatenanti e per quanto riguarda la psoriasi pediatrica molto importanti sono tuttora le infezioni acute. Si pensava fino a qualche anno fa che la psoriasi buttata fosse la manifestazione più frequente, soprattutto in questa fascia d'età, dovuta e indotta a molto spesso a faringiti streptococciche di cui i bambini sono spesso affetti o ad altre infezioni sia batteriche che virali. Negli adulti poi ci sono una serie di fattori scatenanti diversi risalenti all'utilizzo di farmaci, lo stress emotivo e in alcuni casi anche la radiazione ultravioletta potrebbe scatenare le prime manifestazioni di psoriasi in un tipo di psoriasi cosiddetta fotosensibile. Per quanto riguarda la patogenesi, oggi sappiamo che è una patogenesi multifattoriale. Accanto a dei geni di suscettibilità, quindi accanto a una predisposizione genetica, devono coesistere dei fattori ambientali che sono quelli poi che danno l'incipit alle manifestazioni di tipo clinico. Sappiamo che per quanto riguarda l'Italia il gene di suscettibilità sono stati mappati sul cromosoma 6, ma oggi si pensa che esistano anche dei geni condizionanti che non sono stati attualmente ancora mappati, che possono essere responsabili delle diverse manifestazioni cliniche e anche del fatto che una psoriasi possa rispondere più o meno bene ai trattamenti. Sappiamo anche che il normale processo di maturazione del cheratinocita avviene in un lasso temporale di circa 28 giorni, ma che nell'apsoriasi questo processo è altamente più veloce e un tempo minore. Il cheratinocita arriva ad essere espulso dallo stratocornio in un lasso temporale dai 3 ai 5 giorni. E qui possiamo vedere schematizzato cosa avviene in una cute normale a sinistra e cosa invece succede in un'acute affetta da psoriasi, dove ci sono degli stimoli infiammatori che vanno a sollecitare il cheratinocita a iperproliferare e ad andare incontro ad un'anomala maturazione, essendo espulso appunto dallo stratocornio in una forma ancora immatura. Sappiamo anche che oggi gioca un ruolo molto importante la cellula dendritica, che sotto opportuni stimoli rilascia una serie di citochine, di cui quelle che giocano un ruolo molto importante sono sicuramente l'interleuchina 12 e l'interleuchina 23, che vanno a stimolare i linfociti TH1 e TH17. Non mi soffermerò nella descrizione della patogenesi, ma sappiamo anche che tutti gli studi patogenetici recenti si focalizzano su queste citochine proprio per andare a scoprire e lanciare nuovi prodotti che inibendo questa via di trasmissione vanno anche a determinare un effetto terapeutico clinico importante. La psoriasi è caratterizzata quindi da alterazioni ben note, parliamo di iperproliferazione cheratinocitaria, alterato processo di maturazione e poi a livello a carico del derma un infiltrato infiammatorio mediato soprattutto da linfociti T e da alterazioni vascolari, soprattutto vasodilatazione che alimenta ovviamente l'infiammazione stessa. Parlando di infiammazione però non possiamo limitarci all'infiammazione presente nel derma. Oggi si sa benissimo che la psoria si rientra in un quadro di infiammazione sistemica che non è riferita solamente all'acute ma che interessa altri distretti altri organi apparati. La psoria si rientra in una sindrome ben definita attualmente la cosiddetta sindrome metabolica che interessa oltre all'acute anche il sistema cardiovascolare e i pazienti sono spesso sovrappeso, affetti da diabete e in questi pazienti molto spesso si riscontrano anche sintomi psichiatrici di cui quello maggiormente descritto è soprattutto il disturbo ansioso-depressivo. Per quanto riguarda la clinica abbiamo visto precedentemente che esistono forme diverse e la forma volgare che è quella più comune fino ad arrivare a una psoriasi eritrodermica che interessa tutto l'apparato tegumentario con piccole aree di risparmio. La psoriasi invertita che è la cosiddetta psoriasi delle pieghe quindi che interessa le pieghe cutanee, la piega ascellare, inguinale, sottomammaria. La psoriasi pustolosa che può essere localizzata in regione palmoplantare o generalizzata fino ad arrivare poi a quadri di psoriasi artropatica dove l'infiammazione si va a localizzare in maniera lettiva a livello delle piccole articolazioni. Ma nel bambino cosa succede? Finora abbiamo descritto un po' quello che tutti noi conosciamo e che è peculiare dell'adulto. Innanzitutto nel bambino si inizia a parlare anche nel bambino di sindrome metabolica. Questa è una pubblicazione del 2015 in cui vengono definiti i criteri per poter appunto descrivere e inquadrare il bambino in una sindrome metabolica. Per poterla definire tale bisogna avere la presenza di tre o più dei seguenti criteri. Quindi un'ipertriligeridemia, un aumento del colesterolo, un aumento della glicemia, un'obesità centrale riferita quindi indicata come una superiore al 75esimo percentile e la presenza di un aumento di pressione arteriosa superiore al 90esimo percentile inquadrata per età, genere e altezza. Quindi quello che noi sappiamo essere certo per l'adulto inizia a prendere strada anche nell'analisi quando si fa una prima diagnosi di psoriasi nel bambino. In età pediatrica purtroppo non abbiamo studi epidemiologici ben fatti. Sappiamo da delle review che la prevalenza si aggira tra lo 0,5 e il 2,2% in Europa. Mancano degli studi di prevalenza per esempio in tutto il continente asiatico. Negli Stati Uniti le percentuali si attestano più o meno come quelle europee. Vedete però che c'è una grande differenza nei vari paesi europei e questo è determinato dal fatto che molto spesso per la difficoltà diagnostica la psoriasi in fascia pediatrica non è subito ben riconosciuta. Nel 10-15% dei casi esordisce prima dei 10 anni, quindi durante l'infanzia e sono state descritte ma sono rarissimi i casi di psoriasi congenite. C'è un ampio spettro clinico che spesso pone dei problemi in fase diagnostica. Sono colpite più spesso alcune sedi rispetto ad altre e in alcuni casi sono sedi in cui per esempio in età adulta la psoriasi è molto rara, invece nel bambino risulta più frequente. C'è una maggiore frequenza di alcuni quadri clinici come la psoriasi minima, la guttata che abbiamo visto precedentemente e anche la follicolare. Le forme gravi in questa età sono veramente molto molto rare. Se compare nella prima infanzia c'è un'assenza, una scarsa consapevolezza e anche una difficoltà diagnostica perché i genitori in prima battuta si rivolgono al pediatra che non sempre è in grado di riconoscerla e trattarla, in età scolare prepuberale questa malattia essendo ovviamente visibile pone tutta una serie di ostacoli alla socializzazione di ripercussioni psicologiche che gravano ovviamente sulla sulla crescita normale del bambino. Quali sono le principali differenze con l'adulto? Esistono delle differenze cliniche, topografiche e terapeutiche. Mi soffermerò sulle prime due e chi mi succederà parlerà poi della terapia. Vedete già schematizzato come sicuramente più frequente a livello del volto e del cuoio capelluto, a livello genitale e in regione sacrale. I segni clinici nella psoriasi pediatrica sono spesso meno evidenti rispetto alle forme dell'adulto quindi abbiamo una minore presenza magari di eritema, di desquamazione, di infiltrazione che spesso invece ci aiutano molto nel diagnosticare la patologia in fase adulta. Esistono delle forme particolari come per esempio la psoriasi follicolare e nei bambini più che negli adulti e presente il sintomo prurito che porta i bambini a grattarsi e a creare delle ragadi e delle fissurazioni all'interno delle placche. Nel caso della psoriasi minima di solito è colpita un'unica sede, c'è una ridotta entità dei segni clinici, le chiazze sono piccole, ben delimitate e compaiono spesso in sedi non comuni come il volto o in area genitale come vediamo nelle immagini presenti nella slide. Esistono poi delle forme atipiche, la cosiddetta psoriasi nevoide o lineare. Non è frequente, è molto rara, ma in letteratura sono stati descritti in case report diversi casi appunto. Si tratta di una psoriasi che segue le linee di Blasco molto spesso localizzata agli arti inferiori in maniera monolaterale e nel caso di dubbio diagnostico si effettua una biopsia che fa ben vedere tutti i segni caratteristici a livello istologico della psoriasi come l'ipercheratosi, la paracheratosi, la papillomatosi, i microascessi di Murro, i vasi dilatati e l'infiltrato linfocitario a livello dermico. Quindi attraverso una biopsia nei casi dubbi si ha poi la conferma che si tratti appunto di una psoriasi volgare ma che assume questo caratteristico aspetto lineare seguendo le linee di Blasco. Altre due immagini dove si apprezza meglio ovviamente le caratteristiche chiazze disposte in questo modo. Molto spesso a livello clinico le chiazze psoriasi che vanno incontro all'ichenificazione proprio perché magari il bambino si gratta più che l'adulto e per questo motivo spesso sono sovrainfette. c'è una sovrainfezione batterica che rende ancora più difficoltoso in alcuni casi porre una diagnosi precisa. A livello topografico come possiamo vedere da questo slide sicuramente sono colpite delle sedi che sono invece molto rare nell'adulto. Vediamo come nei bambini piccoli nella prima infanzia molto colpito è il volto e questo già ci pone un dubbio diagnostico e mette in diagnosi differenziale la psoriasi con la dermatite atopica per esempio. Sono coinvolte magari in maniera minore di minore entità le guance e può essere interessata anche tutta la zona perioculare. Quindi in questo caso dobbiamo sicuramente effettuare un'attenta anamnesi e magari andare a ricercare lesioni in altre sedi corporee che ci possano aiutare a porre una diagnosi corretta. Altra zona di elezione nel bambino è quella delle pieghe soprattutto in regione inguinale le pieghe antecubitali e ascellari. Anche in questo caso per l'assenza delle classiche manifestazioni cliniche la diagnosi non sempre risulta agevole. In questo contesto merita attenzione la cosiddetta napkin psoriasis, la psoriasi che interessa l'area del pannolino e che va sicuramente in diagnosi differenziale con una dermatite da pannolino. La psoriasi volgare rimane comunque la forma più comune nel bambino, ha una presentazione simile all'adulto anche se in alcuni casi le chiazze possono presentare delle parziali regressioni che la pongono in diagnosi differenziale con una tinea corporis, per esempio. Rispetto alla tinea abbiamo comunque lesioni multiple localizzate in varie sedi e possiamo aiutarci con l'anamnesi a risalire anche in questo caso a una corretta diagnosi. Per quanto riguarda la psoriasi buttata si pone al secondo posto come frequenza, sappiamo oggi essere correlata a un'infezione batterica molto spesso da stretto cocco, ha un esordio in alcuni casi acuto che può cronicizzare e persistere anche per mesi. Inizialmente si pensava che somministrando una terapia antibiotica per curare la faringite potesse andare in regressione la psoriasi, ma il nesso, la relazione tra le due cose non sempre è così immediata. Per quanto riguarda la psoriasi del cuoio capelluto, anche il cuoio capelluto è un distretto molto colpito in queste fasce d'età. Si può presentare in maniera classica, quindi con le classiche chiazze ritematode squamative, o può presentarsi in alcuni casi, come per esempio nella foto in alto a sinistra, come una pitiriasi amiantagia. Nei bambini è molto frequente questo tipo di manifestazioni, insieme poi magari a delle lesioni cutanee a livello nucale che risultano un po' più sfumate e non così chiare come nelle classiche chiazze psoriasiche. In questa pubblicazione del 2015 gli autori fanno una distinzione proprio delle manifestazioni e quindi delle sedi colpite a seconda dell'età di insorgenza. Vediamo come per esempio nei neonati sia molto frequente la manifestazione a carico del cuoio capelluto e della regione genitale, come abbiamo visto poco fa, e anche del viso associata magari alle classiche chiazze presenti in altre sedi. Nei bambini le manifestazioni cliniche rimangono le stesse ma cambiano le sedi. È sempre colpito il volto, anche se in misura diciamo meno grave rispetto a quello che accadeva nei neonati, possono essere colpite le mani e i piedi e iniziano a vedersi anche l'interessamento degli arti, così come succede negli adolescenti, dove le manifestazioni sono molto simili sia come clinica che come sedi colpite a quelle dell'adulto. L'artropatia psoriasica è qualcosa che si pensava non potesse assolutamente interessare il bambino, invece ci sono dei recentissimi articoli pubblicati in letteratura dove si vede come è una condizione non così rara, interessa dallo 0,7 al 10% dei bambini, molto spesso ha un esordio acuto mono o oligo articolare e interessa in maniera prevalente, e si presenta in maniera prevalente come una dattilite o un entesite. Il nostro compito è quello di cercare di indagare molto spesso anche in quei bambini che non sono sintomatici. Vi faccio vedere per esempio il caso di un bambino, questa è un'ecografia del tendine d'Achille che molto spesso è colpito nei bambini come prima sede di un'infiammazione a livello delle entesi, è un'ecografia del tendine di Achille normale dove appunto si vede il tendine di Achille, la borsa retrocalcaneare e il triangolo di Kager che il corpo adiposo molto spesso colpito in fase di infiammazione con un edema evidente all'ecografia e si vede il caso di un'ecografia invece di un bambino completamente asintomatico ma con mamma psoriasica e artropatica dove appunto all'ecografia delle entesi del tendine d'Achille si può vedere un'avvorsite retrocalcaneare e delle piccole degenerazioni tendine segno appunto di un iniziale interessamento di questa intesi. Ovviamente l'artropatia psoriasica non è frequente nel bambino ma questo deve farci capire come l'avanzamento ovviamente delle conoscenze e delle metodiche anche di facile accesso come l'ecografia può farci inquadrare questo tipo di problematica anche in bambini completamente asintomatici. Per quanto riguarda le diagnosi differenziali alcune le abbiamo nominate prima nella nella presentazione sicuramente le più importanti la dermatite numulare la dermatite atopica quando la psoriasi interessa il volto a differenza però della dermatite atopica la psoriasi è meno pruriginosa la dermatite atopica presenta un prurito intenso soprattutto notturno può andare in diagnosi differenziale con la pitiriasi rubrapilare quando la patologia interessa soprattutto i gomiti e le ginocchia la dermatite seborroica quando nei neonati è interessato prevalentemente il cuoio capelluto tinea corporis o tinea facei quando appunto abbiamo quelle lesioni con una partiale regressione centrale che ce la pongono in diagnosi differenziale una pitiriasi lichenoide cronica quando la manifestazione è lenticolare quindi soprattutto nei casi di psoriasi buttata la pitiriasi rosea dove però riusciamo a risalire quasi sempre alla chiazza madre abbiamo una manifestazione cutanea con lesioni che hanno un andamento centripeto la dermatite da pannolino quando interessata all'area ovviamente genitale e in alcuni casi molto molto rari anche con l'istiocitosi x per cui alla fine di questa presentazione quali messaggi dobbiamo portarci a casa il fatto che nell'adulto quando c'è una manifestazione psoriasica e lo seguiamo se indaghiamo nella nella sua anamnesi ci rendiamo conto che in più del 30 per cento dei casi le prime manifestazioni si sono avute durante l'età pediatrica dobbiamo andare anche a indagare i fattori ambientali che spesso sono delle con cause alle manifestazioni cliniche un aspetto molto importante è l'anamnesi e l'esame obiettivo cutaneo proprio per andare a effettuare una corretta diagnosi e quindi non solo inquadrare il paziente ma instaurare un trattamento efficace e in ultimo ma non in ultimo creare dei network sempre più forti tra specialisti e non solo ma creare anche un network con il pediatra perché molto spesso il bambino ci arriva dopo che è stato già visto e trattato magari non in maniera opportuna dal pediatra e con questo concludo e vi ringrazio